Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, restano rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzana e 2.1 variante. In A11 segnaliamo incidente tra tre mezzi leggeri tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze sullo stesso tratto e carreggiata opposta rallentamenti per curiosi. E arriviamo in Fipili dove restano quelli attratti per traffico tra Ginestra e Firenze e Scandicci. Ci troviamo nella carreggiata in direzione del capoluogo. Per il traffico urbano di Firenze possibili disagi per scavo urgente in via Retina. Per la canteristica sulla SR429 di Valdelsa per lavori di sfalcio e erba, senso unico alternato in orario 8.19 in tratti saltuari e diversi tra il km 46 e il km 73 nei comuni di Empoli, Montaione, Castel Fiorentino, Gambassi Terme, Certaldo e Montespertoli. Buongiorno aversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.